Gli intuiti sono che ecco ente le nostre valade già hanno avuto l'inquisizione. L'allungimento della punizione cattolica è arrivata ecco ente le nostre valade. E l'attività è tommata il cazazzo. Tommi ha scugnato poco. Siamo che c'è chi è nato il cazazzo tra il 1320 e il 1330. E ho fatto parte dell'Urding e dell'Inumenicano e ho visto un pseudocardinal. Un pseudocardinal nominato e creato dall'antipapa Clement VII. Un pseudocardinal è un cardinal nominato dall'antipapa. E per sé non è riconosci dalla Gesia cattolica e di fatti la sua nomina eccetera. Ma è la morte dell'antipapa. Chiusa parentesi. Siamo niente come è morto Tommi, ma sappiamo ecco come è morto da Vignun a giugno del 1390. Tommi è importante per noi altri in quel valade, per il suo manoscritto e il suo reso conto ed la sua attività di inquisizione in quel valade. Portaia avanti tra l'17 ed mai e l'11 giugno 2013. La sua attività di inquisitù era in camminaia in tuo castello ed leini ed arrivaia ecco a se ed l'ang. Gli imputati avevano Marting e Presbytero, Antoni ed Brunet, Giaccu e Gnasina, Miklin ed Raimund, Giaculin e Dendrick e avevano i residenti a Viu. All'inizio si tessi bele se scommunicà e descurrenge Marting prima, perché ugli era un po' la figura centrale dell'eresia in Valle di Vieux. Allora, Marting bele se scommunicà e obbligà a pagare una grossa multa, ugli aveva negato la chiusa destra eretica. Ma, ent' un secondo momento, ugli confessa e creeri ent'li principi eretiche, ed susteni li predicatù eretiche ed ospitali a sua che stremenli. In più, utista ecco a chiusa e mustarà ste dottrine creant kiti gruppi facendo arriva l'eresattività e la predicazione addirittura a fare vio. Intru nient'en il fi particolà d'ou pensè eretiche e ent'le credenzi perché us ritrolunga in testo video, eh? Quindi, passem direttamente al peine. Per buon'or usunt'istai nient'e droaie torture e nient'e peine corporale. Ent'li sunnate, Tuma, ugli scrick che gli basta spiega, agli accusa, la ragione di l'error e l'error, e l'error, ugli avevano capì, dove seguì il dottrine sbagliaia e le sacrilege. Allora, lì sì che creio più plapeo che per convinzione, tu c'è l'Uvangel, uion giura, peina, peina, perdri, libbi mobili e immobili, che in futuro uion seguì la disposizione della Gesia. a tol'empegne a difendri la fede e combattri l'eresia, accusant e perseguitant gli eretic. Grazie a ste promesse, l'Utribunale u li assolvet dalla scommunica. Bele se l'Inquisitù u li dona ad punizion. Parta intuern'a da Martin. Martin, u uti sta cucca ad estri recidiu ent' l'eresia. E allora, u ti sta condannà a trai anni e prisun, a to di di alla smana e di giugno. E tu lì di u iarit dovu recità sent pari nostru e sent ave Maria. U ti sta obbligà a portarlo cilicio e naviè sta ed lana direttamente sulla pelle. Infine, Martin, u pu e pignint da scuori e sembio agni un questione fede, u fa e riunioni a sua cè. Purtroppo, Martin, u i egnin rispetta al promesse. E allora, u ti sta brucia sul fuo. Gli altri cat, più buerbe, u sunt ist'a obbligà. Per prima cosa, da là a visità la gesia da Ubea Giacu, in Galicia, entro un anno da La Peina. E u iarionta, u sunt ist'a obbligà a visità la gesia da una via sta ed lana direttamente sulla pelle. E in via intra, u sunt ist'a obbligà a inchinasse davanti all'autare. E prima da usis, u iont di 25 pari nostru e 25 ave Maria. Per tutti i li dì, fin alla morte, u sunt ist'a obbligà a digiunare in via la smana, proprio digiunare, a mingiare senza grassi, a mingiare senza grassi. Per sette anni, u iom portà l'ucilicio direttamente sulla carne, u sunt ist'a obbligà a far d'opere buone per la grassi ricevuta da noi. L'inquisitù, u l e niente brucia, u l e niente brucia a to lo segno della croce, ma u l e obbligà, eh, lo nostro inquisitù, u l e obbligà a pagà na multa a 100 fiorini da donà per costruì la gesia e San Domenico a Cori. Vinc fiorini per l'inquisitù e lì su un assistente e trenta fiorini per tutti i sicuri un istà scomoda da sta storia. Parei, lo tribunal, u li dichiaria assolt, a pat, n'in perseverà ent l'heresia, da c'è tal pein ed unaie, e, in tuo caso contrari, u s'erriont istà giudicà, en degne misericordia e u iariont feite l'istesa fine ed martin. Ora che sappiamo come talaia ha finito, facendo qualche riflessione sulle movimenti eretiche ente le nostre valade e sulle repressione. Allora, ente le nostre valade l'heresia si sviluppaia a tò n'ampiesi e a tò caratteristiche proprie, in particolà ento erna figure grove neraie paremmesse là e martin. In particolà la setta n'aia, come dì so, ento erna martin, probabilmente è ieri la più consistenta. Bele se, in generale, un movimento eretico ieri nient si grant e la sua vitalità è ieri gruppaia la presenza di personaggi prestigiù, presia a queste figure il capacità dell'eresia e di sopravvivere o sono diminuiti notevolmente. Grazie a un manoscritto e tu ma è stata possibile avere informazioni sull'proceso dell'inquisizione da noi, ma ecco sull'inquisizione in generale ente il valade dell'anno. In particolà l'inquisitù Piemonteis uierunt Piemonteis, uvinivunt da Piemonte, uierunt personaggio importante e tendenzialment uierunt Domenican. A fine all'un nostro utumà, che uti sta ricordent l'inquisitù ente il nostre valade tra l'un 1380 e l'un 1380, uti sta nominà cardinal. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.